Il gameplay risulta essere un po' troppo lento poi Allora, andiamo a mettere una mini Perfetto Spunta qualcuno qui Ok Ho il controller quello con i grilletti Mi permette Di fare qualcosa di più carico Mi fa di spawn? Sì Ho avuto paura di un altro nemico Il polpo gli era il bada No, sta dietro Sta dietro Dobbiamo passare un po' l'audio Mi sta esplodendo Ok Ok Non ci troviamo nessuno alle spalle spero Da dietro Prendi qualche f***o io l'avrei dato anche a lei che non Eh, ce l'ho Prendi qualche f***o io l'avrei lanciato Quanti? Quanti? Troppe bombe puoi lanciare Eh, lo sapevo che c'era qualcuno dietro Lo sapevo Prendi qualche f***o io l'avrei lanciare Bene Bene Quanti f***o io l'avrei lanciare Quanti f***o io l'avrei lanciare Ok Bene Ok Benissimo Madonna Bella questa Bellissima anche questa Da paura ragazzi Da paura Sono in serie da dieci Ce li ho qui Un altro Nooo Aveva sentito gli spari Madonna che giocate Oh oh Ok Ok Vai Che non muore Ah Verale Ce l'ho un di prima che uscì Vabbè L'ho scontato Eh ma non muore Quanti colpi Oppure è incendiato Oppure è incendiato Vabbè Qui ha smirato io Bella questa Non ho visto chi era Ma mi sa che è quello Con tanto griffi Oh oh Sono lì Sono lì Madonna vabbè Ma questi non muoiono Non muoiono più Ho fatto quella Quella serie E poi Poi boh Ci ho frencati Da Colpiti due Ok Ehm Fabbiamo l'inceneritore E' buono Molto Ehm Ehm Fabbiamo l'inceneritore Fabbiamo l'inceneritore O Ho Fabbiamo l'inceneritore Fabbiamo l'inceneritore Mi a lavorare Ci sono Mi da Il To proprio modo via oh ah quanti colpi ancora con 52 di vita ah e beh questi qua sono stati sfortunati sono stati molto sfortunati ah 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 stiamo mantenendo bene eh ma lanciano una un qualcosa lanciano ah doppia bene così bene ancora arriva ah no da lì non me l'aspettavo aspettavo che non fossero un po' giusto ok qualche colpo per l'assist stiamo giocando decisamente bene è in brutta posizione mamma mia distrutto colpa alla testa ma brutto guarda guarda che non scurino dietro a volte questa arena la fa ah no vabbè non fossero stati quindi facciamo di avericare ok più spado di spawn no dai era morta però quella quindi andiamo eh vabbè non vedevo niente ma i pali inceneritore mannaggia tutte queste morti ci sta ci sta in arena ma le gira male ok ok da dove? madonna ma chissà sto uccidendo ma cu un po' l'episodio logico eh beh da dietro da dietro da dietro quale sono attenzione eccola appunto sempre lui due occhiali sonar il migliore migliore in assoluto mi chiuso me ne vado il fanno ok dai oh non muore mai questo è stato il primo volta ok è stato il primo volta dai oh non muore mai questo oh è stato il primo volta ok 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 ma va però che sfortuna che sfortuna lì potevo fare una strage ehi ehi mmm nooo mi sono distratto dai stai 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 solidamente bene 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 l'ho ucciso? non vedo no cazzo si è bendicato precisamente più complesso del previsto vendetta va bene ho sparato proprio in mezzo alle gambe mamma mia che strage mamma che strage bene così un'ora dietro volevi volevi eh beh tempismo errato no dai 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 abbiamo quasi niente non sono 15 punti nooo non ce l'ho fatto volevo fare il corpo a colpo ma aveva più il giro bene eh beh qua anche il ragnetto viene lasciamo stare oh quasi la 2-2 mmmm potevo aver arrivato 2 ok ok rate 2 ce l'ho andate qualcuno se la mina ma non non una strage avevo fatto me l'ha data Oh avevo fatto una strage Non me l'ha data Avevo fatto una strage No non mi dire che non è intato Vabbè questo è stato Mamma mia pazzesco Non mi dire che non ho mai intato La era un 3 kill E infatti 527 me ne ha data mezzo Una perché c'era la mina 7 uccisioni multiple Mamma mia Non mi dire che non ho mai intato